L'argomento è i fenici, lo trovate se avete con voi il libro alle pagine, a partire dalla pagina 62 del vostro libro. Intanto guardiamo la datazione, voi sapete che quando affrontiamo un argomento di storia bisogna concentrarsi intanto su due aspetti. Il quando e il dove, cioè la datazione e poi visualizzare su una mappa, su una carta geografica, la posizione dell'evento, della popolazione, della civiltà di cui stiamo parlando. Per quanto riguarda la datazione, vedete c'è una data che ci è molto familiare negli argomenti che abbiamo trattato, e cioè il 3000 avanti Cristo. E poi questa data di inizio prosegue fino al 732 avanti Cristo. Qua c'è un errore, lo aggiusto subito perché la A, questa è non la C, avanti Cristo, non la C, C, che non avrebbe senso. Ecco, quindi dal 3000 avanti Cristo al 732 avanti Cristo. Calcoliamo quindi quanti anni sono, quanti secoli sono per lo meno, no? Sono 2200, più di 2200, quasi 2300 anni di civiltà. Quindi una civiltà molto molto duratura. Di solito queste civiltà che durano millenni, che durano così tanto, evidentemente sono delle civiltà molto elaborate, che funzionano molto bene, che hanno elaborato un meccanismo sociale molto efficace. Adesso io vi mostrerò questa carta, va bene, la ampliamo, se ci riesco, la ampliamo un pochino. No, non ci riesco, ve lo faccio vedere così. Allora, come vedete, noi abbiamo qui una carta del Mediterraneo, qua c'è l'Italia. Ecco, il territorio che a noi interessa è questo qui che è indicato in rosso. Vedete? E questo territorio qui si chiama la terra di Canaan. La terra di Canaan. Come vedete, in rosso però è stato evidenziato soltanto il territorio costiero, con una serie di città, Tiro, Sidone, Biblo. Sono città fenice. Perché soltanto il territorio costiero? Perché, come vedete da questa immagine qua sopra, i Fenici furono un popolo di navigatori, cioè furono un popolo che proiettò la propria azione commerciale e politica fuori dal territorio, cioè a partire dalla costa e poi viaggiando lungo le altre coste. Se vedete queste frecce, queste sono le rotte, le rotte dei Fenici, cioè dove se ne andavano questi Fenici con la nave. Ed è impressionante perché se pensate che stiamo parlando di 4.000 anni fa, 5.000 anni fa, ovviamente pensare che queste civiltà possedessero navi così ben fatte da poter consentire viaggi tanto lunghi e è veramente una cosa notevole e impressionante da notare. Accanto a questa mappa che vediamo qui, in cui si vede appunto la terra di Canaan che è qui, la sto puntando, vedete quel puntatore, e poi si vedono le rotte dei nostri Fenici, io ho collocato quest'altra carta sulla sinistra, dove si vede il deserto del Sahara, questa naturalmente è l'Africa, l'Italia, vedete, è qui. E qui ci sono delle indicazioni di altre rotte, che sono molto interessanti, se vedete. Perché sono interessanti? Perché in questo punto qui, tra, cioè, la penisola iberica, l'Ovierna Spagna e l'Africa, noi abbiamo lo stretto di Gibilterra, giusto? Le famose colonne d'Ercole, lo vediamo anche qui meglio, le colonne d'Ercole. Qua si diceva, cioè gli antichi credevano, che ci fosse il confine invalicabile del mondo. Ricordiamoci sempre che anticamente si credeva che la Terra fosse piatta, e quindi, navigando, intanto, come vedete, sia da questa mappa, sia da quella sinistra, la navigazione avveniva quasi sempre lungo le coste, cioè difficilmente si andava in alto mare, si cercava sempre di navigare lungo la costa. Lungo la costa si intende in modo che la costa fosse sempre visibile, non ci si allontanava tanto dalla costa, non si andava in alto mare in modo che la costa non si vedesse più. Anche se abbiamo, per quanto riguarda i Fenici, delle testimonianze, delle fonti, che ci dicono che i Fenici fossero abili non solo nella navigazione che viene definita di cabotaggio, cioè quella lungo la costa, ma anche di quella di altura. La navigazione di altura sarebbe la navigazione in mare aperto, cioè quella che non prevede che si veda sempre la costa. Però, ecco, cosa si riteneva? Che si potesse navigare in questo bacino del Mediterraneo, ma che a un certo punto varcate queste colonne d'Ercole se, ipoteticamente, si proseguisse o si fosse proseguito da questo lato, diciamo, quindi verso Occidente, a un certo punto la Terra sarebbe finita. Significa che loro ritenevano che la Terra a un certo punto avesse un margine e oltre questo margine, ovviamente, cosa c'era? C'era la morte, si cadeva. Invece i Fenici varcarono queste colonne d'Ercole. Non solo le varcarono, ma continuarono a navigare, questo ce lo spiega uno storico importante che abbiamo già conosciuto e che si chiama Erodoto, e hanno proseguito piano piano fino a circunnavigare l'Africa e ritornare nuovamente dal Mar Rosso. Quindi, in sostanza, questi navigatori furono talmente abili da aprire rotte nuove. E noi sappiamo che quando si apre una nuova rotta, in un certo senso si apre anche la main. Questa è la cosa importante da capire. Cioè, non è soltanto una apertura di tipo commerciale, perché si fanno naturalmente degli ottimi affari andando a toccare delle terre nuove. Ma la cosa più interessante è che questi Fenici avevano la mente aperta al punto da superare le paure ancestrali delle popolazioni antiche. Per esempio, la paura di una morte atroce che fosse giunta nel momento in cui si arriva ai margini della terra conosciuta. Quindi, ricordiamoci questo elemento. La nostra fonte è Erodoto. L'ho scritto qua, vedete? Erodoto. Erodoto noi, se ricordate, lo abbiamo conosciuto a proposito dello studio dell'antico Egitto. Perché Erodoto è quello storico che ci ha detto che l'Egitto è un dono del Nilo e ha descritto le tecniche di imbalsamazione che venivano utilizzate in Egitto per ottenere l'immortalità, se ricordate. Adesso incontriamo nuovamente lo stesso storico, Erodoto, il quale ci racconta che i Fenici hanno circonnavigato l'Africa. Allora, in questo punto qui, vedete, io ho messo, questo lo vedete, lo sto puntando, questo celeste, ho messo le fonti che noi abbiamo. Naturalmente fonti sui Fenici, ce ne sono tantissime, perché ci sono anche le fonti archeologiche. alcune ora ve le farò una, o in particolare ora ve la farò vedere. Però, per quanto riguarda le fonti letterarie, sono famose, oltre a quella di Erodoto che abbiamo appena citato, in cui l'autore proprio ci racconta di questa circonnavigazione dell'Africa, e che trovate alla pagina 63 in fondo. Vedete, nella pagina 63 c'è proprio uno stralcio del testo di Erodoto, nel quale si racconta che i Fenici circunnavigarono l'Africa. Un'altra fonte è Omero, il quale, nei suoi poemi, ci dice che questi Fenici in realtà si chiamano Foiniches, Foiniches. Foiniches, ragazzi, significa esattamente rossi, grossastri, perché, a quanto pare, questi Fenici erano in grado di utilizzare una sostanza che si chiama porpora, che era di colore rossastro, rosso, e con questa porpora, che si raccoglieva nei fondali marini, in sostanza loro tingevano i tessuti e la vendevano, e la vendevano a caro prezzo. Quindi il commercio di porpora praticamente era, consentiva a questa popolazione di fare dei grossi affari. Ecco perché li chiamavano Foiniches. Ora vi sto proiettando questa seconda slide e vi faccio vedere alcune cose. Partiamo prima da questo, da questo, diciamo, riquadro verde che ho preparato per voi e che completa il nostro discorso relativo al commercio. Cosa facevano questi Fenici? Quando andavano a, diciamo, toccare le coste di volta in volta delle località che loro percorrevano via nave, in genere fondavano dei luoghi che sono gli empori commerciali e le colonie. Gli empori commerciali sono praticamente dei luoghi in cui ci si può fermare e dove si può allestire un mercato, dove si può allestire uno scambio delle merci. Questi empori commerciali quindi non erano delle città vere e proprie, erano soltanto dei punti dove fermarsi e dove scaricare la merce, dove vendere, dove comprare. E ce n'erano tantissimi lungo le coste, perché ovviamente più erano, maggiore era il numero delle soste, maggiore era la capacità e la possibilità di fare affari. Però dovete anche fare attenzione alle colonie perché in fondo questa popolazione dei Fenici fu, diciamo, molto ben organizzata anche da questo punto di vista. Le colonie Fenice, ce n'è una famosissima che è quella di Cartagine, della quale parleremo tante volte anche nei prossimi mesi e anche alla fine dell'anno quando parleremo delle guerre puniche tra Roma appunto e Cartagine, che erano delle vere e proprie città che dovevano avere perlomeno tre elementi. Questi tre elementi sono il porto, naturalmente era un porto molto attrezzato perché noi abbiamo detto che i Fenici erano dei grandi navigatori e commercianti, poi ci doveva essere un tempio che era il luogo del culto, quindi il luogo dove si pregavano gli dèi, dove avvenivano anche altre forme di scambio che poi vedremo piano piano perché parleremo della religiosità nel mondo antico e poi ci doveva essere perlomeno un magazzino. Quindi, come dire, non è che c'erano solo questi tre elementi, eh ragazzi, era una città a tutti gli effetti, però queste tre cose dovevano esserci necessariamente, quindi un porto ben attrezzato, almeno un tempio, almeno un magazzino, un grande magazzino per lo scambio delle merci. Ecco, un esempio, abbiamo detto, di colonia fenicia è quella della città di Cartagine. Adesso vi faccio vedere un attimo dove si trova la città di Cartagine, vedete, si trova qui, la sto puntando, vedete? Vedete il puntatore? Quindi è una città interessante, tra l'altro oggi si può visitare, o meglio, si può visitare il sito archeologico della città di Cartagine, però, attenzione, quando voi andate in Tunisia in vacanza e andate a visitare la città di Cartagine, i resti che vedete non sono i resti della città fondata dai Fenici. Perché? Perché poi vedremo con le guerre puniche che Roma, i Romani, quando sconfissero del tutto definitivamente Cartagine, l'arrasero al suolo e costruirono sopra una città che è la città di Cartagine, però costruita dai Romani. Quindi i resti che noi vediamo sono essenzialmente i resti di una città romana, non della città che avevano costruito i Fenici. Però, attenzione, perché in fondo i Cartaginesi furono in un certo senso successori dei Fenici e poiché poi vedremo che i Cartaginesi continueranno dopo che i Fenici noi abbiamo detto nel 732 non ci sono più perché vengono sconfitti dagli Assiri e i Cartaginesi rimangono e continuano la loro opera di commercio di navigazione per cui noi abbiamo tanti siti archeologici attenzione anche in Sicilia per esempio anche a Palermo nel Trapanese ci sono degli interessanti siti archeologici che chiamiamo Fenicio Punici Fenicio perché sono di derivazione Fenicia e Punici Punici significa Cartaginesi quindi i siti archeologici Fenicio Punici ci fanno vedere un po' come era strutturata la città l'Emporio la Colonia fondata dai Fenici che poi furono diciamo la cui opera fu continuata dai Cartagini ok vediamo adesso l'altro ultimo elemento prima di concludere questa nostra disamina sui Fenici vi faccio vedere vi dicevo un reperto archeologico vedete si tratta di un sarcofago sarcofago non so se voi ne avete visti di presenza ad Agrigento ne abbiamo parecchi se siete stati per esempio al museo archeologico di Agrigento avete certamente visto che c'è una sala con tanti sarcofagi questo è molto bello è in pietra e si trova al museo di Beirut museo archeologico di Beirut questo sarcofago qui è chiamato il sarcofago di Iram Iram fu re della città di Tiro che è una delle città fenice originarie cioè si trova proprio nel sud della terra di Canaan cioè nella parte sud di questa fascia costiera che veniva occupata dai fenici risale al decimo secolo avanti Cristo ed è importante per un particolare allora intanto si vede la la differenza rispetto ai sarcofagi egizi il sarcofago egizio è di legno di solito ed ha una forma che potremmo definire anatomica cioè che segue un po' la forma del corpo del cadavere ed è dipinto all'esterno molto decorato molto dipinto anche con colori accesi invece questo sarcofago qui e quelli poi vedremo anche greci romani è un sarcofago in pietra vi faccio notare una cosa il sarcofago è in pietra perché si chiama sarcofago la parola sarcofago è una parola greca composta da due parole la parola sarx che significa carne e il verbo fagein che significa mangiare quindi alla lettera sarcofago significa mangiatore di carne come si giustifica questo questo particolare significato questo strano significato della parola sarcofago ecco dentro questo contenitore in pietra veniva messa la calce voi sapete che la calce è molto corrosiva infatti sui cadaveri per esempio sui campi di battaglia quando era possibile si gettava la calce proprio perché la calce favoriva la decomposizione del corpo e quindi anche serviva per purificare quindi cosa succedeva che questa calce consumava il cadavere era come se come se se la mangiasse la carne ecco perché lo chiamavamo sarcofago vi faccio notare che questa usanza qui di inserire in un sarcofago il cadavere è in direzione totalmente opposta rispetto a quello che accadeva in Egitto perché in Egitto si tendeva a conservare il corpo integro e a impedirne la decomposizione tant'è che c'erano le tecniche come abbiamo visto di imbalsamazione cioè si utilizzavano degli unguenti particolari che erano anche molto costosi e anche si seguiva una procedura di essiccamento particolare in modo tale che il corpo si conservasse integro nel tempo e effettivamente funzionava perché noi oggi abbiamo dopo migliaia di anni delle mummie egizie che sono conservate in una maniera veramente impressionante qui invece con il sarcofago con i sarcofaghi vi ricordo che questa parola si può declinare sia con sarcofaghi sia con sarcofaghi anche se è più comune dire sarcofaghi i sarcofaghi invece praticamente hanno la funzione di consumare prima possibile il corpo di purificarlo e consumarlo e questa è una cosa interessante altra cosa interessante caratteristica di questo sarcofago è che è decorato su tutti i lati essendo decorato su tutti i lati significa che è fatto per essere posizionato al centro dell'area della stanza e non per essere appoggiato alla parete questo è un elemento importante però noi parliamo del sarcofago di Iran per un altro elemento e cioè per questa parte che vediamo vediamo qua vedete che io ho messo un ingrandimento a destra questo ingrandimento qua è in realtà collocato su questo coperchio che sto indicando in questo momento sulla fotografia a sinistra se voi guardate lo ingrandisco un poco se ci riesco non ci riesco ad ingrandirlo non so perché no ci riesco ci riesco guardate qua vedete cosa c'è c'è ci sono sopra delle lettere se voi ricordate le tavolette d'argilla che abbiamo visto per esempio quando abbiamo studiato i sumeri dove era presente la scrittura sillabica cuneiforme e confrontate con questa scrittura qui vedrete che ci sono delle differenze notevole perché questi segni che abbiamo qui su questo sarcofago assomigliano molto di più come tratto dico ai segni che utilizziamo oggi ecco quindi l'alfabeto che qua è utilizzato è un alfabeto nuovo che è quello che è stato inventato proprio dai fenici l'alfabeto dei fenici è un alfabeto vedete l'ho scritto anche qui fonetico significa che ha lo stesso funzionamento del nostro alfabeto di oggi che usiamo oggi noi in Italia cosa significa che ciascuno di questi segni corrisponde a un suono la differenza però stiamo attenti tra questo alfabeto fenicio e l'alfabeto nostro italiano che poi è quello latino è che nell'alfabeto fenicio non ci sono le vocali ma ci sono soltanto le consonanti e in particolare 22 consonanti vi dico anche che questa caratteristica oltre all'alfabeto fenicio ce l'ha anche l'alfabeto ebraico e in effetti nella terra di Canaan noi abbiamo e lo vedremo però con la prossima lezione oltre ai fenici anche una popolazione una civiltà importante che per noi è devo dire fondamentale che è quella ebraica sia nell'alfabeto fenicio sia nell'alfabeto ebraico noi abbiamo 22 consonanti ma non abbiamo le vocali per cui cosa succedeva? che la persona che voleva leggere inseriva nella fase della lettura inseriva le vocali direttamente diciamo così a orecchio quindi riconosceva le parole e inseriva le vocali questo alfabeto fenicio è fondamentale per noi perché sulla base di questo alfabeto fenicio nacque l'alfabeto greco i greci però cosa fecero? non si accontentarono delle consonanti ma aggiunsero anche dei segni per indicare le vocali per cui crearono un alfabeto che è l'alfabeto greco ancora oggi in uso che comprendeva sia consonanti sia vocali grazie